Ciao popolo di youtube, sono 487 e benvenuti in un nuovo fantastico video in treno perchè io non ho tempo di fare video perciò appena ho tempo la faccio in treno sono qua con un tag, se si può definire così, se si può definire così, non lo so ed è il tag INSEGRETO, iniziamo subito allora, ho scaricato l'applicazione di INSEGRETO qua, solo per fare questo video che c'è la cover, guardate che bellina, c'è Omer che mangia una mela se volete sapere le altre applicazioni che ci sono sul mio cellulare, vi linko qui di fianco qui da te, si aprirà, qua c'è una I, dovete cliccarci sopra, clicca, e si apre un link e allora, apriamo, ma io non capisco c'è in carica, ho capito cos'è oddio, allora io veramente sono emozionata, perchè io non ho mai aperto il segreto quindi, voglio, allora, il video si svolgerà così il video si svolgerà così, io tiro dei segreti a lei, ti inserisco e voglio vedere la situazione e poi facciamo il contrario andiamoci nei tempi aspetta ok, 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 non guardo te la puoi guardare i migliori, no, storici storici donna di 19 anni stavo scrivendo un messaggio aniumoroso dicendo che era prima, era stato stranitoso a letto ho sbagliato e l'ho mandato a mio padre un po' un divagino no davvero, purina cosa ne pensi di questa cosa? no, vabbè allora questa qua mi eccita tantissimo Emilio Fede donna di 26 anni no io posso capire tutto ma non lo c'è degustibus, ma non è bene qui si cade nel degustibus basso cerchiamo un uomo uomo di 15 anni mi sento così bello che quando mi disturbo mi guardo allo specchio perché mi eccito da solo che problemi hai? davvero un uomo poi un uomo vuoi giocare a nintendo? cosa devo dire? no no questa è una donna sì ma perché? ma anche lì in vista si caricava per vedere la video vabbè pensavo che Leonardo e Da Vinci fossero due pittori diversi quanti anni ha? 24 24 pensavo che Leonardo e Da Vinci fossero due pittori diversi il bello è che ho discusso per più di 20 minuti pretendendo di avere ragione quando mi sono che è una tua persona cioè no no dice già donna di 23 anni ho perso mezza canna al lavoro speriamo che non la trovi nessuno no guardate guardate scusatemi guardate che figo cioè ogni tanto ci ritroviamo tutti questi paesaggi no? ma benissimo perché sono non si sa neanche che esistano là c'è un palazzetto dello sport qua vedete qui credo che c'è un palazzetto questo è uno stronzo dillo uomo di 22 anni però ho molto piacere quando vedo qualche macchina rovinata da una grandine cioè no davvero io ho utilizzato la tua macchina in questo senso mi piacciono le bande grasse vede i gusti di questo questo non posso leggere ma c'è no donna di 16 anni ti stimo troppo ragazza ho detto a scuola di essermi cagata addosso per non farla verifica vabbè direi che con questo segreto possiamo chiudere il video molto profumato devo dire per fatti ovviamente la elimino subito perché veramente mi vergogna andare in giro con una piccata del genere per fatti di batteria in quanto la videocamera si sta scaricando oh c'è la signorina siamo in arrivo a vercelli vercelli noi ci vediamo se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale mettete mi piace mettete mi piace al video mettete mi piace al video condividete con tutti i vostri amici e amiche e lasciate un commentino qui sotto e soprattutto fate quello che dovete fare ovvero se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao